L'opera di Immanuel Wallerstein si presenta come una rivisitazione critica del pensiero marxista applicato alla scena del mondo. Tra le sue opere principali ricordiamo Africa, The Politics of Independence, 1961, The Capitalistic World Economy, 1979, Antisystemic Movements, 1989, e poi con Etienne Balibar Race, Nation, Class, Ambiguous Identities, 1991, After Liberalism, 1995, The End of the World as We Know It, 1999, e l'opera più importante di Wallerstein, quella indubbiamente a cui è legato il suo nome, si intitola The Modern World System in tre volumi composti tra il 1974 e il 1989. Il pensiero di Wallerstein, dicevo sì, colloca essenzialmente come una rivisitazione critica del marxismo a partire dalle vicende postcoloniali dell'Africa, ed è proprio come studioso ed esperto delle vicende postcoloniali africane che Wallerstein esordisce sulla scena pubblica. A questo argomento dedica le sue prime pubblicazioni fino ai primi anni 70, allorché inizia ad acquisire forma di storico e di teorico dell'economia capitalista globale a livello macroscopico, e dunque in un ambito che si colloca anche al di là dell'Africa. Le prime critiche mosse da Wallerstein al capitalismo, così come la difesa aperta dei cosiddetti movimenti antisistema, hanno contribuito molto rapidamente a renderlo, come Noam Chomsky e Pierre Bourdieu, una eminenza grigia del movimento Against Globalization, contro la globalizzazione, tanto all'interno quanto all'esterno della comunità scientifica. E il suo essere un critico fermissimo della globalizzazione capitalistica è poi uno dei tratti salienti dell'intera sua produzione. L'opera più importante di Wallerstein, come già si è ricordato, si intitola Il sistema del mondo moderno e venne pubblicata in tre volumi che apparvero rispettivamente nel 1974, nel 1980 e nel 1989, The Modern World System. In particolare per redigere quest'opera Wallerstein si richiama sostanzialmente a tre grandi correnti di pensiero. In primis all'opera e al pensiero di Carlo Marx, che Wallerstein riconosce come autore imprescindibile per comprendere i rapporti economici come base strutturale della società e del suo rapporto complessivo con la politica, con tutte le determinazioni anche sovrastrutturali e quindi l'importanza di porre in connessione economia, società e formazioni ideologiche. In secondo luogo un autore fondamentale per la formazione del pensiero di Wallerstein è lo storico francese Fernand Brodel, che aveva scritto nelle sue opere, aveva descritto nelle sue opere lo sviluppo e le implicazioni imprescindibili dell'estensione della rete di scambio economico nell'impero dell'antichità e poi in terzo luogo le ricerche che svolge in partenza Wallerstein intorno al tema del postcolonialismo, quindi le ricerche sull'Africa postcoloniale e sulle nazioni cosiddette in via di sviluppo. Un aspetto importante, direi nodale, di tutta l'opera di Wallerstein è la lettura della contrapposizione fra il nord e il sud del mondo, quasi come se la lotta di classe, così come era stata teorizzata da Marx, venisse da Wallerstein analizzata soprattutto come lotta di classe tra il nord e il sud del mondo o anche, come presto diremo, tra il centro e la periferia. Non che in Marx fosse assente una chiara consapevolezza di come la lotta di classe si determinasse anche come lotta tra nazioni ricche e nazioni povere, secondo un tema che poi Lenin declinerà come questione dell'imperialismo e tuttavia Wallerstein lo assume come nodale nella sua ricerca. Wallerstein rigetta incondizionatamente la categoria di terzo mondo, dice che in realtà esiste un unico mondo regolato da una complessa serie di relazioni economiche e lo chiama economia o sistema mondiale, l'economia mondo o sistema mondo. In questo sistema mondo la dicotomia tra capitale e lavoro e l'accumulazione di un capitale sempre maggiore permette in maniera marxiana di comprendere le logiche stesse di sviluppo e dei rapporti su scala planetaria. In particolare Wallerstein colloca l'origine del sistema mondo moderno nel nord ovest europeo del XVI secolo. Un lieve vantaggio nell'accumulazione capitalistica di Inghilterra e Francia dovuto precipuamente a specifiche circostanze politiche alla fine dell'epoca feudale avviò un processo di espansione graduale. Il risultato di questo processo spiega Wallerstein fu un'unica rete, la generazione di un'unica rete o di un sistema fitto di scambio economico globale che è tutt'oggi esistente che è quello che gli appella il sistema mondo. Uno sviluppo maggiore fu quello che si determinò con l'epoca dell'imperialismo che di fatto portò ogni zona del pianeta a contatto con l'economia capitalistica di stampo europeo anche in modi tutt'altro che idillici, parafrasando lo stesso Marx. Il sistema capitalistico mondiale è distante dall'omogeneità in termini culturali, politici ed economici. Anzi, esso si fonda sulla disuguaglianza su differenze di sviluppo e di incremento di potere che sono consustanziali alla logica stessa dello sviluppo capitalistico su scala planetaria. Contro quelle teorie che celebrano la modernizzazione capitalistica e la tesi stessa secondo cui il capitalismo genererebbe uguaglianza e sviluppo di diritti e di benessere, Wallerstein non concepisce affatto il capitalismo in questa maniera e anzi lo abbina indissolubilmente alle parole asimmetria, disuguaglianza, difformità. In sostanza le differenze tra i paesi, tra le aree ricche e quelle povere non sono residui o irregolarità che verranno presto superate ma sono parti strutturanti imprescindibili della logica stessa dello sviluppo capitalistico. Il sistema mondo, dice Wallerstein, si distingue strutturalmente e non per accidents tra periferia e centro o più precisamente Wallerstein usa nella sua opera più importante, nel suo Outwork, la distinzione tra centro, semiperiferia e periferia. Sostanzialmente le aree che sono rimaste finora escluse dal sistema mondo e dal sistema della ricchezza capitalistica vi entrano anzitutto in forma di periferia. Un importante elemento è quello per cui si dà una divisione fondamentale e istituzionalmente stabilita tra il lavoro del centro e quella della periferia. Dice Wallerstein che mentre il centro gode di un alto livello di sviluppo tecnologico e di prodotti di alta fattura, il ruolo della periferia è sostanzialmente quello di fornire materie prime, prodotti agricoli, mano d'opera a basso costo al centro. Questo è il rapporto di sfruttamento, il rapporto eghelianamente di signoria e servitù che lega fra loro il centro e la periferia. Analogamente, dice Wallerstein, lo scambio economico tra i due poli si caratterizza anch'esso in chiave asimmetrica. La periferia si vede infatti costretta a vendere i propri prodotti a basso costo ma allo stesso tempo deve poi comprare i prodotti del centro a prezzi decisamente alti. In sostanza un rapporto asimmetrico anche sotto questo profilo. Si tratta di una relazione evidentemente non equa che una volta che si sia instaurata tende a stabilizzarsi e di fatto a riprodursi continuamente. Lo status di centro e quello di periferia non sono prerogative fisse di determinate aree geografiche, quasi fossero determinazioni metafisiche ed eterne, spiega Wallerstein. Può infatti mutare il rapporto tra centro e periferia. Vi sono zone di scambio. C'è una zona in particolare che Wallerstein chiama semiperiferia che si comporta come periferia in relazione al centro e come centro in relazione alla periferia ed è quindi una zona mobile, possiamo dire una zona di scambio. Alla fine del ventesimo secolo questa zona dovrebbe, secondo Wallerstein, contenere l'est europeo, la Cina e il Brasile. Una conseguenza imprescindibile dell'espansione del sistema mondo, così come lo definisce Wallerstein, è l'incessante metamorfosi della richiesta del prodotto, sicché la manodopera viene richiesta in maniera sempre nuova. Le risorse naturali, la terra, il lavoro e le relazioni umane vengono gradualmente private del loro valore intrinseco e sono mutate in merce di scambio da mercato, che è detta il valore di scambio. Dice Wallerstein che di fatto questo rapporto è in movimento, non dobbiamo pensarlo come se centro-periferia e semiperiferia fossero eternamente connotate, è un rapporto mobile, in movimento. Se Marx aveva guardato al conflitto di classe all'interno dello Stato nazionale, pur senza disconoscere l'importanza della questione nazionale, anzi in tutte le questioni nazionali Marx intervenne difendendo la questione nazionale, da quella polacca a quella irlandese, Wallerstein per parte sua allarga la prospettiva e la estende all'intero globo. In particolare Wallerstein riferisce il rapporto della lotta di classe al nesso che si instaura fra gli stati che abitano il mondo. Wallerstein si dice convinto del fatto che il capitalismo produca su scala globale, cioè nel world system, quelle contraddizioni che Marx aveva analizzato soprattutto all'interno degli stati nazionali. La distinzione basilare sulla quale si regge il pensiero di Wallerstein è quella tra gli imperi mondiali, world empires, e le economie mondiali. Gli imperi mondiali, spiega Wallerstein, sono quelli che si generano in seguito alle grandi conquiste militari e il loro obiettivo è lo sfruttamento delle risorse degli stati sottomessi. L'impero mondiale era ad esempio l'impero romano, dice Wallerstein. Finché i paesi sottomessi pagano i tributi richiesti dall'impero, allora essi possono conservare una qualche autonomia, come fu il caso delle province dell'impero romano. Gli imperi mondiali, spiega Wallerstein, erano peculiari delle epoche precedenti rispetto al XV e al XVI secolo, allorché il capitalismo moderno non si era ancora venuto sviluppando. E soprattutto nel 1400, segnatamente con le banche toscane, che si generano il moderno sistema capitalistico e la sua nuova forma mentis, il nuovo zeitgeist, diremmo eghelianamente, il nuovo spirito del tempo. Dice Wallerstein che l'organizzazione degli imperi era piuttosto ardua e caratterizzata da un'intrinseca debolezza, segnatamente essi erano assai dispendiosi nella propria conservazione e finivano molto spesso per entrare in conflitto reciproco e per tramontare. Per parte sua il sistema dell'economia mondiale è strutturato ben diversamente. Ha al proprio centro una limitata serie di stati che hanno potenze militari simili e questi stati sono in reciproca concorrenze economiche militare. Nel sistema economico mondiale, inoltre, spiega Wallerstein, vi è una periferia che è composta da stati più deboli. Essi forniscono, come già ricordato, agli stati del centro le risorse materiali e la mano d'opera a basso costo e si tratta di stati che vengono sfruttati spietatamente da quelli del centro, secondo la logica capitalistica. Questa distinzione tra stati del centro e stati della periferia rispecchia la differenziazione marxiana tra le classi degli sfruttatori, i borghesi, e le classi degli sfruttati proletari, anche se poi la prospettiva viene ora proiettata su scala globale nel livello macro degli stati. Possiamo dire che esistono stati proletari e stati borghesi, stati sfruttatori e stati sfruttati. Il centro sfrutta, la periferia è sfruttata. Wallerstein riconosce come accanto all'esistenza di un centro e di una periferia, secondo quanto già abbiamo ricordato, vi sia anche una semiperiferia. Essa è abitata da stati di secondo piano che si trovano a cavaliere tra la periferia e il centro e proprio in ragione di questa loro posizione mediana sono contraddistinti da una certa instabilità. Stati di questo tipo, come il Brasile o la Cina, secondo Wallerstein, avanzano celermente verso il centro e svolgono in tal guisa una funzione importante di cerniera fra stati del centro e stati della periferia. Come già abbiamo evidenziato, gli stati del centro vanno utilizzando i più grandi mercati, i posti di lavoro meglio retribuiti, dispongono di un alto livello tecnologico e di una ben strutturata rete di imprese. Per parte loro gli stati della periferia si trovano in una posizione svantaggiata e subalterna. Hanno le risorse prime, come il petrolio, che però servono al centro, sono costretti a darle al centro. Il centro quindi sfrutta in termini capitalistici la periferia da che essa è sottosviluppata ed è priva di quel capitale utile per poter finanziare le infrastrutture, dai trasporti alla comunicazione fino all'internet. Il conflitto di classe tra sfruttati e sfruttatori, teorizzato da Carlo Marx e Federico Engels, viene ora proiettato da Wallerstein, come già ricordato, su scala planetaria, come conflitto tra stati sfruttati e stati sfruttatori, tra la periferia sfruttata e il centro sfruttatore. Gli stati del centro sfruttano quelli della periferia e di fatto si produce una lotta di classe su scala planetaria. Anche Herbert Marcuse, che come del resto Wallerstein fu un vero proprio guru per gli studenti del 68, come sapete tratteggiò una situazione di questo genere nell'uomo a una dimensione del 1964. In particolare Marcuse in quel testo, riabilitando e rivedendo in maniera originale la dottrina marxista, di fatto disse non soltanto che oltre al proletariato c'erano gli emarginati come nuovi sfruttati, ma disse anche che il conflitto di classe diventava un conflitto fra centro e periferia, per dirla, con Wallerstein. Quindi troviamo una tesi, sia pure non sviluppata in maniera articolata come in Wallerstein, anche in Marcuse. Sulla scia di Carlo Marx, che è il suo autore di riferimento insieme a Brodel, come ricordato, Wallerstein si va convincendo del fatto che il sistema capitalistico sia dialetticamente destinato al proprio superamento, alla propria aufhebung, a togliersi in forme più alte di esistenza e di produzione. Ma prima che ciò possa accadere, occorre che il modo capitalistico della produzione abbia completato il proprio ciclo di sviluppo, assoggettando il mondo intero. Segnatamente la saturazione dei mercati, l'abbassamento della produzione, il crescente impoverimento dei paesi della periferia rappresentano per Wallerstein la spirale da cui il sistema capitalistico non potrà più uscire. Il pensiero di Wallerstein è stato un punto di riferimento per i moti di contestazione della globalizzazione, per i movimenti no global, per i movimenti di resistenza contro lo sfruttamento capitalistico planetario e tuttavia è anche andato incontro a notevoli critiche, non solo, sa va a san dire, da parte dei circoli neoliberali o conservatori che celebrano invece apertamente la globalizzazione, ma anche da parte di storici più neutri nell'impostazione, per quanto ciò sia possibile, si intende, che hanno mostrato come alcune delle asserzioni sviluppate da Wallerstein siano storicamente inesatte. Ad esempio alcuni autori hanno criticato Wallerstein mostrando come egli tende a dimenticare o comunque a sottostimare la dimensione culturale, di fatto riducendola a semplice ideologia ufficiale degli stati, a rappresentazione pura degli interessi economici, quindi Wallerstein peccando di una sorta di determinismo economico finisce per trascurare quello che con Gramsci definiremmo il fatto culturale. In ogni caso la teoria di Wallerstein permette, se non altro, magari anche un po' in maniera meccanica di comprendere molto del rapporto classista tra stati, possiamo dire così, quella lotta tra stati ricchi e stati poveri che egli ha analizzato e concettualizzato mediante l'antitesi fra periferia e centro.